Ciao, mi chiamo Raul Trentin e sono qui per parlare un attimo della mia esperienza. La cosa che mi fa venire la pelle d'oca e spero si possa vedere è il fatto che l'anno scorso ho fatto il percorso con Ecker, ha lavorato molto la mia mente e dopo il percorso con Giosena Maria si è allineato il cuore con la mente. E adesso stanno arrivando i risultati, stanno arrivando investimenti, stanno arrivando investitori e proprio in questo momento sto facendo il saldo. La cosa che mi auguro per tutti voi è che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io di poter fare questa esperienza. Cambia veramente la vita. Buongiorno, sono Cristina, vengo da Roma e durante questo seminario ho percepito delle energie completamente diverse, soprattutto quando è arrivato lo sciamano e mi ha proprio sbloccato letteralmente la prima vertebra e diciamo la ghiandola pineale. Io ho sentito questo e mi sento comunque con un'energia molto più fluida, soprattutto alla testa, che ero sempre bloccata. E poi in più ho anche sognato un tavolo con tanti maestri che mi dicevano di continuare a fare così e che questo è il momento giusto per guidare gli altri alla propria consapevolezza, alla propria anima. Grazie a Giosè e grazie a Anna Maria. Sono Alina Zacharie, ho fatto questa esperienza meravigliosa di questi tre workshop con Giosè e Anna Maria. Ho imparato moltissimo, mi sento sul cammino giusto. Da questi seminari ho imparato moltissime cose, ho risolto molte problematiche, molti conflitti e che dire, è fantastico. Grazie di cuore a tutti, grazie a Giosè, grazie a Anna Maria e sono percorsi assolutamente consigliabili a tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa per loro. Grazie. Ciao, io sono Edoardo, questo corso bellissimo, quello che sento è Giosè bravissimo, Anna Maria uguale. L'altra volta ho appunto scoperto la mia personalità femminile, il mio olato femminile. e in questi giorni appunto si va a fare un collegamento con la nostra anima, scoprire e capire qual è la nostra missione nella terra. molto bello, bello bello, mi sento più anche tranquillo e pronto ad affrontare le sfide della vita. E devo dire quindi, grazie a Giosè e a Anna Maria. Ciao a tutti. Ciao, mi chiamo Giuseppe e voglio condividere con voi questa bellissima esperienza che è stata questa serie workshop a cui ho partecipato. Oggi abbiamo parlato dell'attiva la divinità in te della ricchezza, che è un argomento che mi ha servito molto, mi ha fatto capire di quanto la ricchezza si possa condividere con le altre persone. Cioè io prima pensavo che la ricchezza fosse limitata, invece non è così. Cioè la ricchezza, più denaro c'è in giro e più possibilità c'è di ricchezza per le persone. Quindi mi sembra una cosa molto importante da apprendere. Salve, cosa posso dire così, cosa posso dire così di bello, più bello di questo che non può avere. È una esperienza, quando ti pensa che conosci tutto, non hai conosciuto Giuseppe, Anna Maria, Ricchezza Vera, che sono meravigliosi e meravigliosi e vale a pena. È una esperienza meravigliosa, è un passo molto grande per tutti noi, per me, parlo per me e consiglio per voi che stanno qua partecipando. Grazie. Grazie a tutti.